Bella a tutti ragazzi, sono Orgasmic e sono qui in live per portarvi un nuovo episodio dell'Azar Rotto Chelsea Chelsea che è stato eliminato dalla Champions League, dal Paris Saint Germain ma di questo non ci interessa minimamente perché questa serie non è in alcun modo legata al Real Life come dico sempre, quindi partiamo subito acquistando un giocatore adesso vediamo qui se c'è qualche giocatore bronzo del Chelsea che costa tipo 300 crediti, tipo 500 crediti, tipo 1000 crediti, cioè non possono costare così tanto sono giocatori che ho tutti tranne Kane che mi serve infatti magari prendo questo qui, terzino destro, perfetto primo acquisto della giornata è questo Kane qui, terzino destro, inviamolo subito alla Rosa ecco abbiamo trovato un avversario più o meno del nostro livello con tra l'altro un Neymar in prestito come attaccante quindi farà abbastanza paura questa cosa, però poi per il resto non è che ha grandissimi giocatori ha comunque un attacco notevole, ovviamente basandoci sull'intesa, su comunque i giocatori che abbiamo anche noi in difesa che non sono il massimo della vita, vedremo Hazard, sul fondo, prova a metterla in mezzo, dove c'è Brown, che è la cica, tra l'altro Rudnevs, arriva lui, lituano, dopo una sorta di assist involontario di Brown che dovrebbe essere il, cos'è che avevo detto, tipo il figlio nascosto di William, qualcosa del genere comunque 1-0 per noi, una partita che, boh, laggava, quindi non sapevo neanche come giocarmela Hazard, prova ad andare Hazard, si ferma, fa la sua giocata, entra in area, portiere immobile, incredibile 2-0, comunque partita praticamente credo chiusa perché adesso non vorrei tirarmela però l'avversario non ha minimamente superato il centrocampo bello questo scatto di Brown, questo spunto del figlio di William che può soltanto chiudere in rete Brown, davvero un buon, un buon attaccante, pur essendo un bronzo non raro, davvero provatelo se, se ce lo avete, se volete testarlo, perché secondo me è davvero un buon giocatore, fa dei buoni movimenti, con una finta, rientra, prova il tiro a giro, e Hazard fa la doppietta con questo tiro a giro mi sembra abbastanza facile fare quello a questo portiere, che dovrebbe essere un bronzone quindi non ci sono problemi, 4-0 per noi non stavo neanche commentando, Hazard con un altro tiro a giro dalla distanza fa il 5-0, partita ormai chiusissima, visto che siamo a 90 e appunto finisce 5-0, la partita con una bella tripleta di Hazard Goddy Brown e Rudners, mentre assist un po' vari quindi vabbè, vinciamo qualche credito, ma poco importa adesso dobbiamo acquistare un nuovo giocatore il prossimo giocatore, adesso andiamo a vedere se c'è qua ah, è comparso un Loftus Cheek selvatico che ci serve e quindi lo andremo a prendere, quello che costa di meno sono 450 crediti e un 56 si aggiunge al nostro club soprattutto per fare intesa, più che altro non per molto attiviamo la club, dopo ce lo prendiamo trovato il secondo avversario con la squadra Bologna FC-01 con quello che dovrebbe essere Ignacio Scocco poi c'è in porta quello dell'Atletico e sostanzialmente un attaccante a centro campo un difensore 49 della Roma e poi sinceramente basta e c'è lo scatto di Brown poderoso questo scatto e Brown può solo concludere alla destra del portiere dell'Atletico Madrid che tra l'altro è oro, raro quindi è un buon portiere esulta sotto la curva Brown e scalcia la bandierina 1-0 e giustamente, visto che la partita è super chiusa ha solo un gol di vantaggio l'avversario smette di giocare tra l'altro non riesco a prendergli la palla si chiude 3-0 la partita tra l'altro, vabbè, sono arrivato così a quota 3 e poi ho lasciato un po' andare perché, boh, non lo so non capisco la gente che quitti così dopo un solo gol un conto se te ne ho fatti 26 ma un gol lo potevi tranquillamente recuperare se giocavi comunque, tanto meglio per noi abbiamo sprecato un po' più di tempo però, vabbè adesso andremo a coprare l'ultimo giocatore dell'episodio può essere che... sì, è questo qui però non ce n'è neanche uno nel gioco, come potete vedere quindi direi di passare agli argento no, sì, agli argento comunque direi di passare però prima volevo cambiare il portiere perché abbiamo un portiere che fa un po' schifo quindi vorrei prendere Schwarzer che è il portiere orno raro del Chelsea vabbè, dobbiamo prenderlo ragazzi a 2000 crediti lo so che è una follia però, vabbè, tanto chi se ne frega quindi abbiamo il portiere adesso e quando arriverà il momento poi prenderemo i vari check Courtois ma adesso comunque abbiamo questo e basta e avanza ed ecco il nostro ultimo avversario per l'ultima partita di questo video troviamo un portiere in prestito con il difensore che è abbastanza veloce un centrocampista offensivo oro e credo sia Slimani quello lì non lo so comunque sì adesso vedremo gran giocata attenzione Brown e allora vede Rudnev che può andare da solo in mezzo all'area e arriva il gol decisivo del Lituano o Lettone non mi ricordo comunque sia è dell'Europa dell'Est proprio lui Diop dal corner per Brown che non arriva c'è Cocker però il terzino che è giusto al pallone prova il tiro e il pallone entra in rete penso sia Hazard quel tizio lì che si è trovato il pallone a porta vuota dopo una bella conclusione del nostro terzinone Cocker 2-0 per noi meritato comunque è un avversario abbastanza tosto questo e ovviamente l'avversario smette di giocare anche qui quindi c'è poco da dire succede quando si giocano le partite amichevoli però è veramente scandaloso che la gente perché prende un gol allora non deve giocare più come i bambini di 5 anni si conclude così la partita adesso vi faccio vedere 1-2 5 gol in totale ho continuato per far fare la tripletta a Rudnev che è stato secondo me il giocatore chiave di questo episodio perché ci ha sbloccato tante partite è stato molto decisivo quindi vabbè crediti chi se ne frega l'episodio finisce qui ovviamente dal prossimo episodio comprerò argento e quando finirò gli argenti ovviamente gli oro fatemi sapere nei commenti quali sono gli argento che vorreste che io prenda penso che ci sia che poi c'è Zuma e poi non mi ricordo comunque fatemi sapere nei commenti lasciate un bel pollice in su love to cheek il cugino di Johnny Creek si è infortunato ovviamente lasciate un bel pollice in su 300 milioni ci uscirà un nuovo episodio del Chelsea Rotto Hazard e vabbè ci sono stati tanti quit c'è tanti quit tanti giocatori che si sono fermati in pratica però vabbè ci sta ma quando aumenteremo la nostra intesa e l'intesa ovviamente degli avversari aumenterà queste cose non succederanno o se succederanno saranno veramente poche comunque raga il video finisce qui lasciate un bel like un commento iscrivetevi al canale pagina facebook twitter instagram tutti i link come sempre ritrovati in descrizione ci vediamo al prossimo video bella raga a Grazie a tutti.